Parcheggio Arena senza controlli, tornano i vandali e i rifiuti. Dal 1 gennaio gli uomini della GELAS che si occupavano della cura e della pulizia della struttura non ci sono più anche se la municipalizzata manterrà la gestione ufficiale del parcheggio fino al prossimo 31 marzo. In assenza di controlli tornano i vandali e gli sporcaccioni. L'ennesimo atto vandalico è di pochissimi giorni fa quando un gruppo di ragazze ha distrutto parte dell'impianto di illuminazione del piano meno uno del parcheggio. Il controllo al momento è in capo al settore pulizia municipale mentre l'assessore Licata garantisce interventi immediati. Forza Italia di Dio Lascia ha partito commissariato da Mancuso. Il consigliere comunale Luigi Di Dio ha ufficialmente lasciato Forza Italia. La decisione è maturata a conclusione di una riunione tenutasi nel fine settimana. Di Dio già da tempo aveva sollevato forti critiche sul metodo adottato per portare avanti il partito in città. Ha parlato di un partito ormai commissariato dal deputato regionale Michele Mancuso. Di Dio al veleno. In Forza Italia non c'è democrazia, nessun confronto tra gli eletti e nessun rispetto per gli accordi presi. Sono queste le principali ragioni che hanno portato al divorzio tra l'ormai ex azzurro Luigi Di Dio e Forza Italia. Di Dio critica la gestione totalitaria del partito in città e fa chiarezza anche sul mancato ingresso. In giunta di Francesca Caruso e il suo suo futuro in consiglio. Droga e un microtelefono a Balate. Altri indagati. Il 29enne che a fine dicembre è stato trovato in processo di droga e di un microtelefono all'interno del carcere di Balate è stato sentito dal Gipe e ha fornito la sua versione dei fatti. Vicino a Rinzivillo confermata misura a Zuppardo. I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la misura della sorveglianza speciale imposta e il 64enne Emanuele Zuppardo è stato coinvolto nell'indagine antimafia Exitus perché è ritenuto vicino al boss Salvatore Rinzivillo e i giudici romani non hanno accolto il ricorso presentato dalla difesa. Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Dal primo gennaio gli uomini della Gelas che si occupavano della cura e della pulizia della struttura non ci sono più anche se la municipalizzata manterrà la gestione ufficiale del parcheggio fino al prossimo marzo e in assenza di controlli tornano i vandali e gli sporcaccioni. Sentiamo. Non c'è pace per il parcheggio arena. Dopo essere stata per anni lasciata nel degrado e preda dei vandali da diversi mesi la struttura del centro storico sembrava aver trovato un equilibrio con la gestione in house della Gelas. Da inizio anno però le cose sono cambiate radicalmente. Dal primo gennaio gli uomini della Gelas che gestivano il parcheggio arena ne avevano cura non si occupano più della struttura anche se c'è una proroga fino al 31 marzo. Purtroppo la municipalizzata non ha gli uomini per mantenerli qui all'interno della struttura e adesso al parcheggio arena sono tornati i vandali e gli sporcaccioni. L'ennesimo atto vandalico di pochissimi giorni fa quando un gruppo di ragazzi incurante dell'impianto e videosorveglianza che comunque è tuttora attivo ha distrutto parte dell'impianto di illuminazione del piano meno uno del parcheggio. Vedete questo è l'impianto elettrico sono i cavi e i tubi dell'impianto elettrico che sono stati completamente divelti in buona parte del parcheggio come vedete fino alla centralina completamente strappati e gettati a terra. Ma di piccoli danneggiamenti nel parcheggio ce ne sono anche altri. Essere presi di mira oltre agli impianti anche gli ascensori acquistata di velta la protezione in metallo e che adesso sono tornati ad essere un pericolo. Ma oltre ai vandali naturalmente sono tornati anche gli sporcaccioni che ogni giorno trasformano il parcheggio nella loro personale discarica. In tutti i piani sono visibili i resti delle cene fast food dei tanti ragazzi che la sera frequentano il parcheggio e che spesso si cimentano anche in evoluzioni pericolose con i loro motorini più volte segnalate senza esito dai residenti che abitano accanto alla struttura. E nel parcheggio si trova davvero qualsiasi cosa anche le più impensabili. E come vedete qui al parcheggio Rena si trova davvero di tutto qui c'è una borsa probabilmente di un corriere con all'interno diverse buste e guardate sono fatture telefoniche di ogni tipo di gestori telefonici diversi dalla wind 3 alla team ma anche unipol sai tutte fatture che non verranno mai recapitate ai destinatari e che sono state abbandonate qui. Come vedete ce ne sono davvero tantissime. Un problema quello dell'abbandono del parcheggio legato soprattutto all'addio degli uomini della Gelas è che l'amministrazione adesso starebbe cercando di risolvere in tempi brevi. Il problema della Gelas è sempre stato sostenuto dall'amministratore in modo molto corretto. La Gelas non ha il personale, anche il personale che era adibito presso il parcheggio Rena è andato in pensione, non ha le unità operative sufficienti per garantire il servizio. L'ha sempre detto, l'ha sempre sostenuto e per questo ci siamo adoperati come ufficio del Corpo della Polizia Municipale ad affrontare una gara nel più breve tempo possibile. Per questo ci siamo anche riusciti, a breve avremo la ditta che ci occuperà di questo servizio. La gara dovrebbe essere espletata già questo giovedì, nel frattempo il controllo al momento è in capo al settore Polizia Municipale. L'assessore Licata condanna in ogni caso chi continua a non mostrare rispetto per la cosa pubblica e garantisce interventi immediati. E' chiaro che forse la sera molti si divertono qui a, come dire, non solo a vandalizzare ma a tenere sporco una struttura che è una struttura della città, dei cittadini. Deve essere sincero, noi condanniamo non solo gli atti vandalici ma condanniamo quegli atti che procurano sporcizie contro il decoro urbano. Da questo punto di vista io mi sono premurato a chiamare la società Tecra per poter venire a fare questa pulizia straordinaria all'interno del parcheggio. Possibilmente spero che verranno anche oggi a svolgere questo servizio. E' evidente che non ci aspettavamo che già nel giro di pochi giorni potessero cadere questi atti. L'unica cosa che noi stiamo facendo è dare il servizio nel più breve tempo possibile affinché questa struttura sia nuovamente idonea e garantire un servizio anche efficiente per cittadini. Da questo punto di vista io sono qui per questo. Diamo uno sguardo al consueto Covid Report. 50 nuovi casi in città nelle ultime 24 ore, altrettanti guariti. La curva complessiva del contagio è a 1138. I numeri si riducono anche se ASP comunica un decesso di un paziente positivo al Covid. In totale sono 137 da inizio pandemia. Un paziente giolese è stato ricoverato in degenza ordinaria mentre due sono stati dimessi. La politica, il consigliere comunale Luigi Di Dio ha ufficialmente lasciato Forza Italia la decisione maturata a conclusione di una riunione tenutasi nel fine settimana Di Dio già da tempo. Aveva sollevato forti critiche sul metodo adottato per portare avanti il partito in città. Ha parlato di un partito ormai commissariato dal deputato regionale Michele Mancuso. I colpi di scena in maggioranza non mancano affatto. Se tanti pro greco attendono di capire quale sarà l'esito della crisi aperta dalle dimissioni dell'ingegnere Giovanni Costa, Forza Italia invece incassa l'addio del capogruppo Luigi Di Dio. Il consigliere ha detto basta, non farà più parte del gruppo e del partito. Un addio ufficiale maturato dopo una riunione tenutasi venerdì scorso. Di Dio non condivide affatto un'organizzazione tutta imperniata sul deputato regionale Michele Mancuso. Di Dio alla sua seconda esperienza all'assise civica aveva già sollevato forti critiche sulla riconferma in giunta dell'assessore Nadia Gnoffo, sostenuta proprio da Mancuso. Ha chiesto di mettersi intorno ad un tavolo per cercare di dare più autonomia al gruppo locale. L'obiettivo era un cambio di metodo con più democrazia, così ha detto Di Dio. Così però non è stata la riunione. Si sarebbe dovuta tenere, come era stato deciso anche dal coordinatore cittadino, aperta ai primi dei non eletti. Lo aveva chiesto proprio Di Dio. Invece, secondo il consigliere Mancuso, si è opposto e il coordinatore Vincenzo Pepe si è semplicemente adeguato al diktat, spiega lo stesso Di Dio. Di Dio si dice comunque stanco di situazioni che si ripetono sempre uguali. Secondo il consigliere, infatti, Mancuso decide e dispone senza alcuna autonomia per il partito locale. L'esponente, che ora diventerà indipendente, spiega che Mancuso vuole mantenere solo ciò che ha. Di Dio valuterà anche con il suo gruppo al momento la sua collocazione in maggioranza, anche se verranno effettuati ulteriori approfondimenti. Spiega comunque di non poter proseguire la sua attività politica e il mandato affidatogli dalla città in un gruppo, quello di Forza Italia, continuamente commissariato dall'alto. Richiama anche quello che definisce smacco dei pazienti di terapia intensiva trasferiti al Sant'Elia di Caltanissetta senza che il deputato regionale di riferimento, in questo caso Mancuso, abbia detto nulla. Tutto questo, secondo Di Dio, è inaccettabile. Mancuso solo pochi giorni fa aveva spiegato che nel gruppo locale non c'erano problemi, ora deve fare i conti con l'addio del capogruppo consigliare che lascia un voto consistente nel partito cittadino. E nessun confronto tra gli eletti e nessun rispetto per gli accordi presi. Sono queste le principali ragioni che hanno portato al divorzio tra l'ormai ex azzurro Luigi Di Dio e Forza Italia. Di Dio critica la gestione totalitaria del partito in città e fa chiarezza anche sul mancato ingresso in giunta di Francesca Caruso e sul suo futuro in consiglio. Da capogruppo a dissidente nel giro di alcuni mesi, un divorzio che era nell'area da tempo ormai e che proprio nell'ultima settimana si è concretizzato, poca democrazia, nessun confronto con gli eletti e decisioni calate dall'alto, sarebbero queste le motivazioni che hanno portato l'ormai ex azzurro Luigi Di Dio a dire addio a Forza Italia. Questa è una cosa che viene maturata già da diversi mesi perché in Forza Italia già c'era uno scontrarsi continuo anche su valutazioni, sul fatto che non c'è democrazia all'interno di Forza Italia. Forza Italia non è un partito, non si riunisce, Forza Italia non ha una sede a Gela, è soltanto una filiale dell'onorevole Manguso che decide chi deve fare il segretario provinciale, chi deve fare l'assessore, chi deve fare il segretario cittadino. Sono tutti nominati, nessuno è stato eletto democraticamente in quelle funzioni. Io mi ero speso perché a Gela dovevamo costruire insieme ai ragazzi che si sono spesi nel progetto di dare un'azione amministrativa alla città. Questo non è stato possibile farlo perché le cose vengono calate dall'alto, quindi prendiamo contezza di tutto ciò e non possiamo fare altro che dare spazio a chi vuole contribuire con loro in questo percorso. I più maligni dicono che questa rottura sia legata al fatto che nel momento del rimpasso sia stata riconfermata l'assessore Gnoffo e non si è dato spazio a Francesca Caruso che doveva essere una degli assessori potenziali Forza Italia che era tra l'altro sponsorizzata tra virgolette proprio dall'OIGI Dio. Quanto c'è di vero in questo? Questo è completamente falso perché noi a ottobre, quando c'è stato il rimpasso, abbiamo avuto una riunione e si era deciso di riconfermare l'assessore Gnoffo insieme all'avvocato Caffà che sarebbero entrati in giunta e la consigliere Caruso avrebbe ricoperto un ruolo di prestigio all'interno di un'azione governativa. Tutto ciò è saltato perché Caffà non è diventato assessore e più Forza Italia non è stato chiamato, è stata prevaricata nel suo ruolo sia il capogruppo che il segretario e l'onorevole Manguso si è incontrato in separata sede con il sindaco e hanno deciso che doveva continuare l'azione l'assessore Gnoffo quindi l'hanno fatto senza consultare nel Caffà, nella Caruso, nel consigliere di Dio che era garante di tutta questa situazione. Quindi lì manca proprio la democrazia, là si rompe il tutto, non perché la Caruso doveva fare l'assessore, quindi automaticamente questo non è vero. In conclusione, adesso Luigi di Dio che cosa farà in Consiglio Comunale? Qual è la posizione che Luigi di Dio assumerà in Consiglio Comunale? Ma io ho detto, l'altro ieri quando ci siamo incontrati con Manguso e Pepe, ho detto che è inutile che volete additare Luigi di Dio che ha scelto percorsi politici differenti. Di Dio Luigi lascia Forza Italia perché deve continuarsi a guardare allo specchio la mattina perché ha una dignità e rispetto per gli impegni presi. Se voi gli specchi più a casa non ce li avete è un problema vostro. Io sarò indipendente, valuterò se rimanere in maggioranza oppure no, con i miei amici ci confronteremo in questi giorni e valuteremo se si può continuare un percorso con questa amministrazione oppure no. La cronaca, i carabinieri hanno avviato indagini dopo questa notte in un'abitazione di via Florimo è stato trovato senza vita un 86enne, nello stesso appartamento vive anche la moglie, allo Stato sembra che l'ipotesi più accreditata sia quella del decesso per cause naturali. Le verifiche comunque sono in corso per accettare tutti gli aspetti della vicenda. Il 29enne che a fine dicembre è stato trovato in possesso di droga e di un microtelefono nel carcere di Balate è stato sentito dal GIP e ha fornito la sua versione dei fatti. Potrebbero però esserci altri indagati, sia la droga che il telefono sono stati sequestrati. Potrebbero esserci altri indagati per quanto scoperto e sequestrato dagli agenti della penitenziaria nel carcere di Balate. A fine dicembre addosso ad un detenuto 29enne di nazionalità bulgara sono state trovate dosi di cocaina e hashish. Il giovane detenuto per scontare una condanna definitiva per traffico di droga aveva anche un microtelefono. La droga e il telefono erano nascosti negli slip indossati dal 29enne. È stato sentito dal GIP e ha spiegato la sua versione dei fatti e difeso dall'avvocato Rocco Cutini. Sembra che l'attenzione degli investigatori si sia concentrata anche su altri possibili coinvolti. Non si esclude che la droga e il microtelefono potessero essere destinati ad altri detenuti della struttura. Le indagini sono in corso. Il 29enne bulgaro ha risposto nel corso dell'interrogatorio fornendo la sua ricostruzione della vicenda. La droga e il microtelefono, che avrebbe consentito contatti con l'esterno, sono stati trovati durante un controllo effettuato a fine dicembre all'interno della casa circondariale. Gli agenti della penitenziaria hanno inoltrato una segnalazione ai PM della procura che hanno avviato l'indagine che sembra poter toccare anche altri soggetti. L'attività quindi potrebbe diventare ancora più ampia rispetto a quanto individuato e sequestrato all'interno del carcere locale. Gli accertamenti sono comunque in corso anche perché le indagini non sono state ancora chiuse. Furono denunciati perché accusati di essersi appropriati di una fornitura di bibita all'ingrosso e il danno per la ditta che non incassò le cifre previste si sarebbe aggirato intorno ai 30.000 euro. Negli scorsi giorni davanti al giudice Evani Castro gli esercenti Francesco Fama e Vincenzo Fama hanno respinto tutte le contestazioni. Hanno escluso di aver avuto intenzione di raggirare fornitori. Anche gli imputati in quel periodo si occupavano di attività del settore e secondo l'accusa avrebbero usato assegni scoperti per il pagamento. Una ricostruzione che i due esercenti a processo insieme a un'altra imputata Roberta Specchio hanno negato. Per i legali che li rappresentano gli avvocati Rosario Prudenti e Valentina Loporto non ci sarebbero certezze neanche sull'effettivo riconoscimento da parte dei responsabili della società che subì l'ammanco. Ancora cronaca giudiziare. I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la misura di sorveglianza speciale imposta al 64enne Emanuele Zuppardo. È coinvolto nell'indagine antimafia Exitus perché è ritenuto vicino al boss Salvatore Rinsivillo. I giudici romani non hanno accolto il ricorso presentato dalla difesa. Sentiamo. È vicino al boss 60enne Salvatore Rinsivillo. I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la misura della sorveglianza speciale imposta al 64enne Emanuele Zuppardo, attualmente imputato davanti al collegio penale del Tribunale di Gela a seguito dell'inchiesta antimafia Exitus. I magistrati romani non hanno accolto il ricorso presentato dalla difesa di Zuppardo, confermando quanto già deciso dalla Corte d'Appello di Caltanissetta. Ci sono tutte le condizioni per la misura. Secondo i giudici romani, la difesa di Zuppardo si era rivolta alla Cassazione chiedendo l'annullamento di quanto stabilito in appello. Zuppardo, secondo la linea difensiva, avrebbe da tempo preso le distanze d'ambienti della criminalità organizzata. Prima di essere coinvolto nell'inchiesta, lavorava regolarmente fuori dalla Sicilia. Gli investigatori però lo ritengono pienamente attivo nel gruppo Rinsivillo, tanto da essersi messo a disposizione del boss partecipando anche ad una riunione tra affiliati in un bar della città monitorata dagli investigatori. Contestazioni che Zuppardo ha sempre respinto in attesa che arrivi la decisione del collegio penale di Gela nella dibattimento dell'inchiesta Exitus. La Cassazione ha respinto il ricorso, dando seguito a quanto già indicato in appello. Secondo i giudici di Cassazione, il decreto impugnato dalla difesa ha esposto però in modo esteso e articolato gli elementi di fatto dai quali desumere una significativa pericolosità sociale di Zuppardo. I magistrati romani fanno riferimento ai ripetuti contatti, nonostante fosse detenuto e approfittando dei permessi premio intercorsi con Salvatore Rinsivillo, dal quale aveva ricevuto messaggi da trasmettere a terzi, così scrivono i giudici di Cassazione. Inoltre richiamano anche la partecipazione a una riunione fra appartenenti alla medesima associazione mafiosa. Non è stata sicuramente una procedura così semplice da portare avanti. Il cambio di guardia del lato CL6 e liquidazione dell'Assemblea Territoriale Idrica è stato formalizzato solo di recente. Lati, guidata dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, da circa tre anni impegnata a sovrintendere l'intero sistema del servizio idrico in tutto il territorio provinciale. Nelle ultime settimane è stato definito un altro passo burocratico che era atteso. Il personale in servizio dell'ato CL6 transita nell'organigramma dell'ati. Il provvedimento è stato firmato dal commissario ato Duilio Alongi. E in città riapre il teatro. Il teatro Eschilo dedicherà eventi dedicati alla centenario della scomparsa di Giovanni Verga. Dopo due anni si alza il sipario con una nuova stagione teatrale. Sentiamo. Dopo due anni di pausa legata alla pandemia torna ad alzarsi il sipario del teatro comunale Eschilo. Questa mattina è stato Francesco Longo, direttore artistico del comunale di Piazza Sant'Agostino, a presentare la nuova stagione che prevede oltre a quattro eventi di prosa anche due musical e spettacoli dedicati al centenario della morte di Giovanni Verga con l'immancabile classico del Mastro Don Gesualdo. Si inizia il 27 marzo con un nuovo spettacolo della compagnia palermitana ai Sansoni. Il ritorno dopo quest'estate. Hanno avuto un grande successo. Abbiamo avuto gente da tutta la Sicilia che è venuta a Gela. Speriamo la stessa cosa che appunto ritornino questa volta per vedere questi ragazzi di Palermo che sono veramente strepitosi e che stanno raggiungendo grandi risultati nazionali. Andranno a Roma, a Milano. Per noi è veramente fondo d'orgoglio riospitarli a Gela con un nuovo spettacolo, lo ripeto. Poi abbiamo il 10 aprile Enrico Guarneri, il primo maggio Tuccio Musumeci e il 25 maggio Marco Bocci con uno spettacolo molto introspettivo, molto bello e poi insomma anche lui fa la sua figura. Ma questa è la stagione prosa. Ma c'è uno spazio anche dedicato ai ragazzi in due fasce. Ci sono quattro musical che sono quattro favole praticamente, realizzate sempre in maniera teatrale, non è una proiezione ma è proprio teatro vero e proprio con scenografie, costumi e attori in due fasce. La fascia domenicale per le famiglie e la fascia mattutina invece per le scuole. Che dirvi? Ah, dimenticavo, siccome quest'anno sono i cento anni dalla morte di Verga, molti spettacoli, come molti teatri siciliani stanno dedicando spettacoli e opere di Verga. Ci saranno due spettacoli dal maestro Don Gesualdo alla storia del castello dell'attrizza. Per l'assessore Cristian Malluzzo si tratta di un ritorno alla normalità, ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, coraggio a riaffodare teatri come ci vuole coraggio anche a creare iniziative culturali. Noi come amministrazioni siamo vicini a chiunque voglia organizzare eventi per questa città e voglia fare in modo che Gela venga riconosciuta in un più ampio panorama regionale e nazionale. Non è voluto mancare alla presentazione del calendario il sindaco Lucio Greco. Rialzare il sipario del teatro eschilo di Gela della nostra città ci fa respirare un'aria di ripresa graduale alla normalità e rappresenta come sempre momenti di crescita culturale, sociale, economica della città a cui tutti taniamo particolarmente. Sulla situazione di forte emergenza dell'area industriale di Contrada Brucazzi si è tenuto un incontro che ha visto coinvolti il prefetto Chiara Armenia, il sindaco greco, il funzionario comunale Salvatore Lombardo, l'impresa Romano Lucia, il presidente provinciale di CNA Giovanni Manduca, il presidente regionale CNA Industria Daniele Incorvai e il segretario CNA Pasquale Gallina. C'è l'intenzione di definire un cronoprogramma che si occupa di interventi e manutenzioni della questione da tempo, si occupa la commissione consigliare di sviluppo economico, le manutenzioni varie ma anche servizi sono tra le priorità. Lo sport, una domenica surreale, quella vissuta ieri allo stadio Presti della SSD Gela, un pomeriggio di commozione nel ricordo di Giuseppe Antonuccio, il 25enne scomparso in settimana per una grave malattia, i tifosi del Gela lo hanno ricordato con striscioni e cori, mentre la fidanzata, il fratello minore e gli amici hanno deposto un mazzo di fiori sotto la sua gigantografia davanti la curva Angelo Boscaglia. Per la cronaca la partita finita 4-0 è durata 45 minuti perché il Pachino è rimasto in sei dopo l'infortunio del portiere. Sentiamo. Una domenica surreale quella vissuta allo stadio Vincenzo Presti perché la partita non ha avuto alcun valore, il Gela ha vinto 4-0 contro il Pachino in questo turno di prima categoria ma la squadra ospite si è presentata con quasi un'ora di ritardo e soprattutto in sette uomini. Per la cronaca la gara è finita 4-0, gara durata 45 minuti perché poi si è infortunato il portiere degli ospiti che sono rimasti in sei e quindi l'arbitro è decretato con anticipo alla fine della partita. Dicevo le reti segnate al settimo da Maniscalco, al quattordicesimo da Ascia, al trentacinquesimo da Caccia, al quarantaduesimo proprio ancora da Maniscalco su calcio d'angolo e su quell'azione si è infortunato anche il portiere ospite. La partita, dicevamo, è passata in secondo piano perché prima del match è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Giuseppe Antonuccio, un ragazzo di cui ci siamo occupati a Trincee, un ragazzo che ha perso la vita per una malattia. Nei giorni scorsi una gigantografia in curva Angelo Boscaglia perché Giuseppe Antonuccio è stato calciatore del Real Gela ed era un tifosissimo dei colori bianco-azzurri. Allo stadio c'erano tantissimi amici, familiari, tutti indossavano una t-shirt con il suo volto, c'erano i genitori, c'è la fidanzata Roberta, il fratello più piccolo. Tanti calciatori anche del Gela Football Club come Tony Asce che noi abbiamo intervistato, che è stato un suo compagno di squadra ma come lui stesso lo ha definito un vero e proprio fratello. Che ricordo avete Giuseppe? Cosa vi rimane dei suoi valori, soprattutto il suo coraggio, la sua grande realtà? Non è che rimane, è più che altro lui che ha insegnato a noi, perché lui ha insegnato a vivere, ha insegnato a essere, soprattutto se noi siamo qua, è proprio solo per dirgli grazie, perché potremmo dire solo quello a lui. I tifosi sono stati ingommiabili, quella della Curva Bosca? Non ce l'aspettavamo una cosa del genere perché è stato un episodio fantastico, infatti dobbiamo dire grazie anche a loro perché non è da tutti fare una cosa del genere, in così poco tempo soprattutto. Tony, tu sei amico di Giuseppe, hai giocato insieme a Giuseppe, quindi insomma per te credo un giorno particolare oggi? Sì, più che amico diciamo fratello, non mi aspettavo un giorno di questo, speravo non arrivasse mai, però purtroppo ci ha fatto questo brutto scherzo, però rimarrà sempre nei nostri cuori. Che ricordo hai di quando invece giocavate insieme, visto che tra l'altro mi dicono che aveva anche il tuo ruolo? No, no, era difensore, purtroppo gli facevo girare un po' la testa, lui era un po' scarsetto, eravamo un po' più piccoli. Ci sono i tuoi amici là che ti salutano, mi danno l'applauso, forse anche questo sorriso è il modo forse più bello per ricordare Giuseppe, bisogna ricordarlo col sorriso perché lui fino alla fine incoraggiava gli altri, questa è la cosa incredibile. Sì, viene spontaneo più che altro parlare di lui e avere sorriso, perché anche se tu gli chiedevi come stava, lui ti rispondeva come stavi tu, cioè non gli interessava lui che stava male, gli interessava magari il bene tuo. Un'ultima cosa, io ovviamente immagino il prossimo tuo gol a chi sarà dedicato. Sicuro, sperando di farne ancora, qualsiasi gol riuscirà ad entrare sarà per lui, come ricordo. Oggi a Labiso la partita passa in secondo piano perché il contesto era surreale con gli avversari che si sono presentati in sette, quello che ci ha colpito e commosso è la presenza di tutti gli amici, i familiari di Giuseppe Antonuccio e i tifosi alla Boscaglia. Sì, oggi la partita passa in secondo piano, anche per come gli avversari sono presentati in inferiorità numerica. purtroppo in settimana abbiamo avuto questo lutto per gli sportivi, per la città di Gela, di un giovane che è venuto a mancare per una malattia e ha affranto un po' tutti. È tutto, il nostro telegiornale termina qui. Per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it Adesso vi lascio alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.